Slot machine nel bosco Sono state ritrovate nel bosco alle mie spalle le slot machine portate via nella notte tra giovedì e venerdì ad un bar di piazza San Giusto ad Arezzo. Ci troviamo in località Molinelli nella strada che porta verso Poti a pochi chilometri dalla città. A notare ieri pomeriggio le macchinette ovviamente scassinate un giovane aretino che si trovava nel bosco in sella alla sua moto da cross. Il ritrovamento è stato subito segnalato alla polizia che sta conducendo le indagini. Il furto con spaccata era stato messo a segno poco prima dell'alba di venerdì attorno alle 4.30 quando la banda di malviventi a volto travisato aveva preso d'assalto il locale. I banditi erano arrivati a bordo di un furgone bianco armati di piccone. Prima avevano spaccato la vetrata d'ingresso e poi una volta dentro si erano diretti verso le tre slot machine del cambiamonete portandole via. A lanciare l'allarma era stato un vicino che aveva chiamato le forze dell'ordine. Ho sentito quando parcheggiavano col furgone e dopo ho sentito il chiascio e le cose. Ammazzate insomma ammazzate sul vetro. La polizia si era così immediatamente messa sulle tracce della banda individuando il furgone in fuga. Ne era nato un inseguimento ma i malviventi erano riusciti ad abbandonare il mezzo e a proseguire la fuga a piedi lungo il torrente Castro. All'interno del furgone c'era solo una delle slot rubate, le altre infatti erano già state esuotate e poi abbandonate nel bosco. Proseguono adesso le indagini della polizia per risalire all'identità dei malviventi. Gli agenti stanno visionando anche i filmati delle telecamere di sicurezza del bar preso d'assalto. Il ritrovamento delle macchinette era stato poi segnalato anche sul gruppo WhatsApp contro i celtroni, un gruppo nel quale segnalare attraverso foto episodi di degrado in città.